Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo naturalmente ancora con la tragedia di Pietracatella dove è crollato il tetto sulla navata della chiesa, lavoravano lì alcuni operai, uno di loro Giuseppe Mancino di 53 anni di Riccia è morto altri due sono ricoverati in ospedale al Cardarelli di Campobasso feriti, uno di loro è in gravi condizioni ed è in rianimazione ci dice tutto in apertura Tonino Danese Il crollo intorno alle 13.30 dopo la pausa pranzo e il tetto sopra l'altare sulla navata destra della chiesa della Madonna di Costantinopoli a Pietracatella è venuto giù, lì stavano lavorando in tre operai della ditta Nifra un volo di una decina di metri per uno di loro Giuseppe Mancino di Riccia, 53 anni, sposato e padre di due figli purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto dopo aver battuto la testa, feriti gli altri due di 42 e 52 anni entrambi ricoverati al Cardarelli, erano anche loro di Riccia, uno in rianimazione a dare l'allarme alcuni operai del comune Io stavo qua davanti, ho sentito il rumore, sono uscito e hanno detto chiamate il 118, chiamate il 118 Ho visto tre operai per terra, tutta tanta polvere che non si vedeva niente due che parlavano, che chiedevano aiuto e un altro invece fortunatamente non l'ho E' crollata praticamente la volta? Eh sì, abbiamo visto che è crollata la volta Subito sul posto i soccorritori della croce di San Gerardo di Sant'Elia Pianisi e il 118 da Campobasso Eh, scena brutta perché già a prima vista il primo dei tre sembrava già, insomma, deceduto Sono arrivati i carabinieri di Sant'Elia Pianisi e la Digos e gli ispettori del lavoro che hanno ascoltato gli altri tre operai impegnati nel cantiere, nella chiesa ai Vigili del Fuoco No, è crollato una volta, diciamo, della chiesa, nella navata laterale dovuto per il prossimo momento di me dal peso che c'era sovrastante che ha prodotto il ferimento di due persone e la morte di un'altra persona Adesso è al vaglio degli inquirenti tutti gli accertamenti C'erano delle persone sopra la volta e quello già è un peso poi bisogna capire anche se ci sono state altre concausi che hanno prodotto il crollo L'area transennata e la chiesa chiusa I lavori erano ripartiti una decina di giorni fa Riparazione, danni e miglioramento sismico in seguito al terremoto del 2002 Ma la chiesa era praticabile, era aperta? Sì, sabato abbiamo avuto un matrimonio, nel pomeriggio di sabato c'è stato un matrimonio in questa chiesa Erano lavori piuttosto esterni, insomma, di ristrutturazione A Pietracatella sono arrivati anche il governatore Frattura il presidente del consiglio regionale, Niro il consigliere delegato alla ricostruzione, Salvatore Ciocca e i consiglieri regionali Fusco Perrelle e Lattanzio oltre al sindaco di Riccia Fanelli il dolore di chi conosceva la vittima e i due feriti C'era anche Gian Federico Cecanese, l'avvocato della ditta, la Nifra della moglie di Carmine Abiuso e il costruttore tra i condannati per il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia Cecanese ha spiegato che il responsabile della sicurezza era stato nominato dalla chiesa Per quanto riguarda la ditta che assisto sembra che abbia tutta la documentazione in regola Erano al lavoro sei operai, tre lavoravano sotto altri tre stavano mettendo in sicurezza questa zona diciamo che è la penultima zona della chiesa che doveva essere diciamo tra virgolette ristrutturata Intanto la procura di Larino ha aperto un fascicolo l'inchiesta nelle mani del sostituto procuratore Luca Venturi C'è stato il crollo, verifichiamo un po' se erano in atto tutte le misure di sicurezza previste per i cantieri edili sarà insomma oggetto di accurata indagine Ci sono in corso gli accertamenti sentendo le persone chi lavora sul cantiere e la verifica della documentazione Comunque la salma sarà a disposizione dell'autore della giudiziaria Una tragedia che ci lascia a tutti senza parole Questa è la dichiarazione del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura Siamo tutti addolorati per la terribile sorte toccata all'operaio Giuseppe Mancino Seguiamo con apprensione gli aggiornamenti che arrivano sulle condizioni di salute degli altri due operai feriti Siamo vicini alle comunità di Riccia e di Pietracatella Cordoglio alla famiglia di Giuseppe Mancino anche da parte del senatore Roberto Ruta che ha preannunciato un'interrogazione alla presidenza del Consiglio per sapere se erano state predisposte tutte le misure di sicurezza per evitare la tragedia e cordoglio alla famiglia anche dal presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis Intanto a Riccia, paese delle tre persone coinvolte nel crollo è stato proclamato il lutto cittadino per Giuseppe Mancino a renderlo noto il sindaco Micaela Fanelli Siamo profondamente scossi ha dichiarato il primo cittadino dolore, sgomento e profonda commozione hanno colpito me il Consiglio la Giunta, tutta la comunità non si può morire sul lavoro E c'è stato un incidente mortale a Termoli dove un uomo di 70 anni ha perso la vita con il suo tre ruote si è scontrato contro un'auto condotta da una ragazza di 23 anni ribaltandosi più volte il suo mezzo sentiamo Fabrizio Chionero L'incidente è avvenuto prima della galleria della strada che collega il porto alla rotonda di Rio Vivo Antonio Trombetta, 70 anni, stava andando verso il mercato ittico quando per cause da accertare il suo tre ruote è stato travolto da un appunto guidata da una ragazza di 23 anni che procedeva sull'altra corsia un impatto violentissimo che ha fatto ribaltare più volte il mezzo e non ha lasciato scampo all'anziano è morto per le gravissime ferite riportate tra le lamiere accartocciate proprio sulla strada che faceva ogni giorno per dare una mano per scaricare qualche cassetta di pesce e fare qualche lavoretto tra i locali della marineria a nulla sono serviti i soccorsi del 118 della Misericordia la ragazza di Termoli a bordo dell'auto finita nella cunetta è stata trasportata per gli accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Santimoteo ancora sotto shock per il terribile scontro le sue condizioni non sono gravi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i carabinieri, la capitaneria e la polizia municipale la strada per il porto è rimasta bloccata per consentire i soccorsi Antonio Trombetta era molto conosciuto e stimato in città tre pregiudicati pugliesi sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili della distruzione con una bomba carta dell'area esterna di una pizzeria a Campomarino Lido attualmente sono in carcere a Larino le indagini sono state condotte dai militari dell'arma di Termoli che hanno raccolto elementi di prova ritenuti schiaccianti dieci giorni fa l'attentato l'esplosione alle 4 del mattino in una zona molto frequentata dai turisti c'è una svolta nelle indagini sulla presunta violenza sessuale ai danni di una minorenne da parte di un uomo di Larino i fatti risalgono a qualche settimana fa la ragazzina si era presentata in ospedale accompagnata dai genitori e aveva denunciato l'uomo 58 anni accusandolo di averla violentata i carabinieri avrebbero accertato le circostanze denunciate dalla ragazzina e il GIP del Tribunale Frentano ha disposto gli arresti domiciliari per il presunto violentatore polemiche, ricorsi ed esposti in procura 84 precari della protezione civile mandati a casa si difendono con i denti ma intanto si preannunciano nuovi concorsi per sostituirli e si sottoscrivono transazioni anomale a sfondo clientelare ci dice tutto in questo servizio Giovanni Minicozzi Continua la lotta dei precari della protezione civile e vincitori di concorso mandati a casa con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto triennale prevista dal bando impugnativa dei licenziamenti ricorsi al TAR richieste di risarcimento danni ed esposti alla procura della Repubblica per tentare di affermare diritti legalità e trasparenza in una situazione di caos pressoché totale che da oltre due anni caratterizza la gestione dell'Agenzia regionale di protezione civile professionisti esclusi senza valide motivazioni dopo dieci anni di lavoro dedicati alla ricostruzione post-terremoto ma contemporaneamente si preannunciano nuovi concorsi per colmare la carenza di personale e si sottoscrivono transazioni extragiudiziali anomale per riassorbire contrattisti a tempo determinato scaduti nel lontano 2012 situazioni davvero paradossali e secondo molti a sfondo clientelare che potrebbero sfociare in vuoto di scambio sulle quali chiediamo massima trasparenza e un controllo accurato degli organi preposti noi chiediamo la reintegra immediata sul posto di lavoro in subordine il risarcimento d'anni siamo peraltro anche vincitori di concorso e precari storici della pubblica amministrazione del sistema regione molise non ci fermiamo se qualcuno pensava che precari della protezione civile gli 84 precari della protezione civile fossero rassegnati si sbaglia di grosso insomma noi abbiamo la ragione dalla nostra parte siamo anche fermamente convinti che i precari della protezione civile hanno subito un torto palese e quindi meritano un risarcimento per tutti i danni morali d'immagine e a livello professionale che hanno subito la legge di bilancio aveva previsto 150 mila euro per la continuità dei precari ma non si capisce dove siano finiti legge regionale di bilancio lo scorso marzo furono stanziati 150 mila euro per la riassunzione dei precari degli 84 ex contrattualizzati della protezione civile sulla base di un impegno bipartisan di maggioranza e di opposizione che fece seguito all'ultimo tavolo di concertazione in giunta regionale alla presenza anche del governatore Frattura noi chiederemo l'accesso agli atti per capire in consiglio regionale per capire che fine abbiano fatto questi fondi e se necessario nel caso in cui questi fondi abbiano preso direzioni diverse da quelle per i quali erano stati impegnati noi presenteremo un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica non ci fermeremo questo è sicuro dunque più o meno siamo al si salvi chi può e soprattutto si salvi il Molise da eventuali calamità naturali si è riunito oggi il consiglio regionale a protestare all'esterno di Palazzo Moff ai lavoratori dell'ATM che chiedono il pagamento di due mensilità arretrate in aula si doveva discutere l'ordine del giorno presentato da Francesco Totaro sulla sospensione dei ricoveri al reparto di chirurgia del Vietri di Larino su richiesta del presidente Frattura la discussione è stata rinviata la prossima settimana dopo il tavolo tecnico nazionale sui piani operativi che come hanno annunciato e denunciato le opposizioni nessuno conosce contrari al rinvio i consiglieri del centrodestra Iorio e Fusco Perrella e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle Manzo e Federico e sulla votazione della mozione per la revoca degli incarichi al tutore dei minori Erminia Gatti e alla consigliera Giuditta Lembo l'aula ha stabilito su richiesta di Iorio di decidere in seduta segreta prevista dall'articolo 32 del regolamento Il Molise da solo non ce la può fare prima che sia troppo tardi bisogna chiedere la solidarietà delle altre regioni meridionali hanno fatto discutere le affermazioni di Mauro Natale presidente di Confindustria Molise all'Assemblea degli Industriali di Benevento dichiarazioni riportate anche dalla stampa nazionale ascoltiamo Mauro Natale al microfono di Enzo Di Gaetano Hanno fatto discutere parecchio le dichiarazioni di Mauro Natale presidente di Confindustria Molise all'ultima Assemblea degli Industriali di Benevento Mauro ha detto chiaro e tondo che la difesa dell'autonomia del Molise non è più conciliabile con l'attuale situazione economica del paese bisogna federarsi ed unirsi per macro obiettivi perché se il sud resta diviso in piccole autonomie il distacco dal centro nord non potrà che aumentare per questo Mauro Natale ha chiesto un'intesa con le altre regioni del sud un'intesa che potrebbe anche servire da preludio ad altri discorsi come quello dell'integrazione delle reti il divario tra il nord e il sud dell'Italia aumenta sempre di più negli ultimi anni c'è stato ancora un divario importante non se ne parla più di mezzogiorno non se ne può sentir parlare di mezzogiorno sia a livello governativo sia anche un po' a livello confindustriale però il mezzogiorno esiste quindi ci dobbiamo dar da fare l'Assemblea di Benevento è servita a mettere al tavolo un po' tutti i presidenti di Confindustria regionale parlare insieme e forse io ho buttato là l'idea di ragionare come area del mezzogiorno un'area territoriale unita e non più divisa perché avere delle peculiarità come Regione Molise come altre regioni Campania eccetera singolarmente non vale a nessuno dobbiamo ragionare in termini di unitarietà Con la crisi economica non si può vivere più da soli insomma bisogna unirsi questo mi sembra il messaggio unirsi anche perché arrivano tra poco i fondi di coesione territoriale per il sud sono dei fondi importanti e sicuramente bisogna gestirli bene dobbiamo tutti quanti gestirli il meridione interamente in maniera giusta e corretta non pensare esclusivamente alle varie tematiche regionali ma pensare a un discorso di infrastrutture importanti per il meridione d'Italia senza le infrastrutture noi non andiamo da nessuna parte le industrie fanno fatica ad arrivare da noi poco fa ho sentito l'intervista del presidente dell'Unilever amministratore delegato che dice appunto sulle infrastrutture è importante avere le infrastrutture per far sì che questo territorio sia più competitivo con tutta l'Europa neanche più con l'Italia sta preparando l'assemblea del Molise grosse novità e chi arriverà qui in Molise l'anno scorso portò Squinzi quest'anno chi porterà? Dovevamo fare l'assemblea nostra di Confindustria nel mese di maggio c'era stata l'opportunità di avere il presidente del Consiglio Renzi dopodiché con i vari impegni eccetera non è stato più possibile un impegno anche preso da parte del presidente della regione Molise di Laura Frattura stiamo riprogrammandola per ottobre abbiamo invitato il ministro della salute la Lorenzin che credo che arriverà sicuramente abbiamo chiesto a lei una data vediamo un attimino adesso quello che succede insomma speriamo di averla via libera del Consiglio Provinciale di Isernia al trasferimento degli uffici regionali in via aberta nulla è valso il tentativo in estremis di Brasiello di rinviare la questione che coinvolge un membro della maggioranza a Palazzo San Francesco infatti i locali dove è attualmente ospitata la regione sono di proprietà della famiglia di Edmondo Angelaccio esponente del Partito Democratico in Consiglio Comunale sentiamo ancora Enzo Di Gaetano il centinaio di dipendenti regionali che prestano servizio nella sede di via Farinacci a Isernia di proprietà della famiglia Angelaccio presto dovranno traslocare in via aberta nella sede dell'amministrazione provinciale a nulla è valso il tentativo in extremis di Brasiello di rinviare la discussione accambando la scusa che la regione probabilmente voleva più spazio per i suoi uffici non c'è stato nulla da fare all'unisono destra e sinistra hanno bocciato la proposta del presidente di rinviare la spinosa discussione e hanno votato approvando per l'affitto degli uffici alla regione e qui bisogna far capire perché si tratta di una decisione difficilissima per Brasiello già alle prese con una maggioranza consigliare sfilacciata in vista del delicatissimo passaggio del bilancio al Consiglio Comunale infatti gli uffici di via Farinacci sono in locazione in uno stabile della famiglia Angelaccio la stessa che è presente in Consiglio Comunale con Edmondo espressione del Partito Democratico famiglia che perderebbe un bel po' di quattrini se il trasloco andasse in porto nessuno lo ammette a viso aperto ma il nodo della questione è ancora una volta quello dei soldi è utile che il denaro pagato dalla regione per l'affitto vada a un privato o è meglio farlo destinare alle squinternate casse della provincia un dilemma shakesperiano per Brasiello che così aveva tentato di aggirare l'ostacolo la regione nei giorni scorsi ha mandato alcuni funzionari presso di noi per verificare la possibilità di ulteriori spazi rispetto a quelli che ci sono già stati chiesti io ho chiamato la regione per avere delucidazioni in merito e siamo rimasti insomma che nei prossimi giorni ci incontriamo per definire un pochettino quanti e quali sono gli spazi e soprattutto qual è il costo per cui oggi mi sembra insomma devo stare attento nel senso che l'atto di indirizzo da formulare oggi forse magari mi sembra il caso di rinviarlo per chiarire meglio la questione ma l'idea della ritirata strategica che poi è una costante del Brasiello pensiero non è andata giù praticamente a nessuno con il solo Sergio Sardelli che ha provato fino all'ultimo inutilmente a convincere del contrario i riottosi consiglieri di maggioranza il Presidente aveva proposto un rinvio ma pare che il rinvio non si faccia in quanto noi dobbiamo cercare di capire effettivamente cosa ha chiesto la Regione quanti spazi ha bisogno di poter trasferire i propri uffici riempire di contenuto anche questa nostra provincia visto che si sta svuotando di tutto e perché no ci sono delle entrate certe esigibili nel senso che non possiamo buttare dalla finestra quello che sono le entrate certe che la Regione può dare benissimo alla nostra provincia poi di fronte alla domanda diretta ovvero se la difesa dei legittimi interessi di Angelaccio fosse un problema per la maggioranza Brasiello e Di Pilla hanno risposto così c'entra qualcosa il fatto che Angelaccio anche sostiene la maggioranza al Comune oltre che essere il proprietario dell'immobile dove è attualmente ospitata la Regione dico la politica c'entra o non c'entra Brasiello? No io tratto con la Regione la Regione è il mio interlocutore perché la Regione ha formulato un atto di indirizzo una proposta di delibera regionale con la quale ci chiede i locali per cui il mio interlocutore e la Regione non mi interessano altri interlocutori Secondo lei c'è qualcosa di politico dietro questo batti e ribatti da provincia e regione? No penso di no ancora non siamo entrati nel merito della discussione probabilmente se ci sono novità emergeranno sicuramente al tavolo del confronto del Consiglio Provinciale via libera alla procedura di assunzione di 40 dipendenti dell'IKF scelti tra i 247 lavoratori in cassa integrazione che da oggi sono in mobilità questa è la decisione presa dopo la riunione tra i commissari TR Ferreri Caruso e i rappresentanti sindacali intanto il Tribunale di Isernia ha respinto il ricorso ITR gestione bianchi contro il nuovo decreto di sequestro di capi di abbigliamento ferré disposto dalla procura di Isernia c'è stato un sit-in di Italia Nostra davanti agli uffici del settore energia della regione dicono no all'impianto eolico nel territorio di San Biase e in quello di Limosano giovedì è prevista la conferenza dei servizi allora sentiamo ancora Tonino Danese paleoliche a mille metri di altitudine su un crinale tra la valle del Trigno e quella del Biferno in territorio di San Biase e Limosano e quanto si ha intenzione di realizzare la società Replus ha presentato tre progetti che riguardano i due comuni e anche Sant'Angelo Limosano progetto quest'ultimo abbandonato per incongruenze di natura tecnica l'associazione ambientalista Italia Nostra in un sit-in davanti alla sede degli uffici del settore energia della regione ha manifestato la propria contrarietà Abbiamo fatto delle osservazioni alla presentazione del progetto abbiamo ritenuto che il progetto fosse inammissibile erano tre progetti originariamente in realtà riteniamo che fosse un unico progetto che occupasse appunto tutta un'area quella in questione Giovedì ci sarà la conferenza di servizi Ci auguriamo che i progetti non vengano autorizzati perché sarebbe un grosso scempio paesaggistico ed ambientale in una zona centrale del Molise che la zona è anche ricca di storie di reperti archeologici che testimoniano una presenza romano addirittura preromano Con Italia Nostra anche l'osservatorio molisano sulla legalità e rappresentanti di comuni campani a confine tra le province di Campobasso e Benevento Italia Nostra ha sottolineato ancora una volta come la produzione energetica del Molise da rinnovabili e non superi il 100% il fabbisogno regionale e pertanto bisogna contenere gli impianti eolici impattanti La burden sharing che impone alle regioni una produzione di energie da rinnovabili per ogni regione nel Molise questa percentuale è del 35% la regione ha subito passivamente questo carico senza opporsi in alcun modo tenendo conto che la regione la nostra regione è piccolissima e quindi in proporzione alle altre avrebbe dovuto avere un carico minore in considerazione anche della eolicizzazione già presente massicciamente nella nostra regione Per chi impianta paleoliche qual è il risvolto economico? Sono circa 9.000 euro al giorno la resa per ogni palo eolico alle ditte naturalmente per il fotovoltaico si va dai 2.500 ai 3.500 giorno dunque dal momento che abbiamo quasi 500 pale basta fare due calcoli 9.000 euro giorno di guadagno netto tolto tutto tasse eccetera tutto pulito per quasi 500 pali sul territorio moltiplicato naturalmente per 300 erotti giorni quello che succede praticamente ogni anno sono state sequestrate dalla guardia di finanza 385 banconote false per un valore di oltre 16.000 euro la banconota più gettonata dai falsari si conferma ancora una volta quella da 20 euro a intervenire sul territorio per l'individuazione dei soldi fasulli tutti i reparti dipendenti dal comando provinciale della guardia di finanza di campo basso i dati si riferiscono all'intero 2014 e ai primi sette mesi dell'anno in corso il 2015 su iniziativa dell'associazione Francesco Casale domani pomeriggio a Isernia si terrà un incontro incentrato sulle inchieste Mani Pulite e Mafia Capitale sentiamo Sergio Di Vincenzo 20 anni di affari e politica partendo da Mani Pulite fino a Mafia Capitale sarà questo il tema portante dell'incontro in programma domani a partire dalle 18.30 in piazza Celestino V a Isernia questo periodo della storia recente italiana sarà analizzato dai giornalisti ma anche da alcuni dei protagonisti di quell'inchiesta che decretò la fine della prima repubblica ma non della corruzione abbiamo scelto come argomento Mafia Capitale e Mani Pulite l'idea è di mettere a confronto queste due inchieste per cercare di capire quali sono i punti in comune e quali invece le differenze sarà anche l'occasione per vedere come è cambiato il modo di fare il giornalismo dagli anni 90 ad oggi lo faremo con Antonio Di Pietro ex PM di Mani Pulite Maurizio Grigo che era a GIP nell'ambito della stessa inchiesta e con Enzo Jacopino presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti l'incontro dibattito è stato organizzato dall'associazione culturale Francesco Casale nata per ricordare il collega Esernino scomparso prematuramente ma anche per proporre eventi culturali e momenti di riflessione è un anno che ci siamo costituiti ufficialmente nel ricordo del nostro amico e collega che è scomparso improvvisamente due anni fa ed è sempre quella voglia che ci spinge quella che ha fatto sì che costituissimo questo gruppo siamo quasi tutti giornalisti la voglia è quella di ricordare Francesco ma anche di promuovere dei piccoli eventi di grande valenza che diano il segno anche della dignità della nostra professione quella giornalistica quindi cerchiamo sempre di invitare ospiti di rilevo nazionale di parlare di argomenti che possano offrire gli spunti di riflessione importanti è partita ieri sera dal blu note di Ripalimo Zani la 25esima edizione dell'Eddy Lang Jets Festival insieme a Walter Ricci giovanissimo cantante swing ha duettato il trombettista Fabrizio Bosso ci racconta la serata Giovanni di Tota Atmosfera da club new yorkese swing degli anni 50 reso moderno dal suono dell'organo Hammond si è aperta così l'edizione numero 25 dell'Eddy Lang Jazz Festival dal blu note di Ripalimo Zani ad accendere subito il pubblico delle grandi occasioni la voce già collaudata di Walter Ricci che nonostante i suoi 26 anni ha già il colore e la padronanza sul palco del crooner una formazione quella di Ricci in grado di affrontare tutti i classici del periodo d'oro portati al successo da Frank Sinatra Nat King Cole e oggi riproposti in chiave moderna da Michael Bublé con il quale Walter Ricci ha anche duettato in tv poi l'arrivo sul palco del suono inconfondibile della tromba di Fabrizio Bosso uno dei maggiori talenti italiani di questo strumento che ha cominciato a suonare a sette anni nella sua Torino oggi Fabrizio Bosso vanta collaborazioni che vanno da Baglioni a Mario Biondi da Sergio Cammariere a Chiara Civello successo annunciato per il concerto di ieri sera ora il festival comincia il suo viaggio sulle principali piazze del Molise stasera a Isernia poi a Monteroduni e a Termoli con l'incognito quindi ancora Isernia Larino e Campobasso con la grande musica a fare da filo conduttore attraverso l'estate molisana bene ora ci spostiamo a Venafro dove si è svolta una manifestazione dedicata ai giovani talenti musicali molisani e non vediamo il servizio a riscosso ampio apprezzamento la seconda edizione di Conversando con le stelle di scena in piazza Cimorelli a Venafro per una sera il palco è stato tutto per loro per quei giovani talenti che hanno la passione della musica nel sangue ma non sempre l'opportunità di mettersi alla prova o di farsi conoscere la manifestazione è stata voluta dalla poetessa Maria Giusti da sempre molto vicina ai giovani e alle loro passioni perché questa iniziativa perché io prima di tutto amo i giovani e sono molto vicina a loro e in questo mondo dove spesso si sente parlare di delinquenza giovanile di droga appunto del mondo dei giovani preferisco parlare di loro in questi termini e la musica credo sia il mezzo il mezzo più bello per parlare di loro perché attraverso di essa si esprimono liberamente come appunto mi hanno detto molti di loro sono proprio la prima esperienza la prima volta che si presentano ad un pubblico e quindi veramente sono molto emozionati e hanno lavorato duramente quindi l'obiettivo è proprio questo di farli di farli nascere insomma alla musica di far sì che tutti quanti sappiano quello che loro fanno sul palco si sono alternati due pianisti due sassofonisti tre cantanti e due band madrina della serata la mezzo soprano Laura Verrecchia una giovane venafrana che sta riscuotendo importanti successi a livello nazionale iniziative come queste sono preziosissime per avvicinare i giovani al mondo dello spettacolo della musica e credo che siano di forte incoraggiamento appunto per chi si avvicina a questo mondo e per chi ha bisogno anche di essere spronato anche ad affrontare il pubblico e anche diciamo queste iniziative servono anche un po' per il confronto con con gli altri ragazzi con altre persone che che sono qui che amano fare musica e amano soprattutto stare insieme ai ragazzi che sperano di fare carriera nel mondo della musica da questi consigli di studiare perché una volta che hai studiato non c'è più diciamo l'alibi per poter dire non ce l'ho fatta per questo motivo perché insomma non ci sono più scuse siamo in chiusura ma c'è prima l'appello per tre cagnoline che sono state abbandonate tanto per cambiare in un secchio dell'immondizia chiuse in una busta di plastica di queste tre cucciole se ne stanno occupando volontari animalisti ma non possono più farlo i cani a cui badare sono davvero troppi richiedono perciò il vostro aiuto chiunque voglia adottare una di queste tre bellissime cagnoline può come sempre contattare la redazione di Telemolise l'ultima edizione del nostro telegiornale termina qui e vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise buonanotte